Ciao a tutti, siamo dello stand della Militant che questa sera insieme al Comitè Internazionalista Camilo Senfuegos, al Sederre di Roma e al Comitè Ernesto Che Guevara di Managua organizzano la serata per commemorare l'anniversario della rivoluzione sandinista. Spieghiamo brevemente chi siamo e che cosa facciamo. Noi siamo un'organizzazione non profit che fa della solidarietà internazionalista la propria ragione d'essere, per cui tutti gli anni organizziamo iniziative e eventi durante i quali vendiamo del nostro merchandise, magliette, felpe eccetera, i cui proventi vanno interamente devoluti per finanziare dei progetti di solidarietà internazionale appunto. Da oltre quattro anni collaboriamo con Provincia Havana, specificatamente con il municipio di Alchizar, a 60 chilometri circa da Havana, dove abbiamo realizzato tre anni fa un consultorio medico. Due anni fa abbiamo contribuito a ristrutturare un hogar materno e adesso stiamo raccogliendo i fondi per la ristrutturazione di una scuola media superiore. Tutto quello che facciamo è a scopo totalmente volontario, insomma, nessuno di noi ci guadagna nulla perché pensiamo, come diciamo in un nostro manifesto, todo para todos, para nosotros nada, riprendendo quello che è anche uno slogan zapatista, nel senso che a questa cosa teniamo molto e così come teniamo a portare avanti la solidarietà politica e concreta nei confronti di chi si batte per un mondo migliore, che pensiamo o sarà socialista o non sarà. Grazie.